Spostatevi, 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 tutti l'assunto. Saranno il dirigente comunale Cosimo Antoni che l'ingegnere Giuseppe Raccuia, incaricati dall'EPM Andrea Maggioni, di eseguire una consulenza catastale delle singole particelle a tentare di chiarire il dubbio. Il dubbio è quello di individuare il titolo di proprietà dei terreni lungo il costone del Viale della Vittoria, dove poi avvenne il crollo investendo il Palazzo Crea. A sollevarlo, nella precedente udienza, era stato l'avvocato Rosa Salvago, difensore dei presunti titolari delle aree interessate che non sarebbero state tenute in sicurezza. Per il legale, quei terreni da decenni non appartengono ai suoi clienti, che sono Maria Isabella Sollano, di 75 anni, e i figli Valentina e Oreste Carmina, di 49 e 46 anni, imputati al processo, ma che, secondo l'avvocato Salvato, non c'entrano nulla. L'udienza decisiva era in programma ieri mattina davanti al gruppo Alfonso Malato, ma Racuia non ha fatto in tempo a completare il suo elaborato e metterlo a disposizione delle parti e del giudice per interloquire sulla questione. Si torna in aula il 6 ottobre. Il punto è centrale, almeno per la posizione dei proprietari dei terreni prospicenti il costone. Gli altri imputati sono l'ex sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, e le dirigenti dell'ufficio comunale Giuseppe Principato, l'accusa a carico dei 5 imputati di disastro colposo. Zambuto e Principato, secondo il PM Andrea Maggioni, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio, sapevano già due anni prima del crollo della grave situazione di pericolo, tanto che avevano messo per iscritto anche un'ordinanza di messa in sicurezza, ma senza preoccuparsi che venisse rispettata, come invece impone la legge. Grazie a tutti.